Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Monopoly Go, oggi siamo qui per andare a vedere come ottenere tantissimi adesivi gratis all'interno del gioco Tutto questo avviene grazie all'evento esclusivo che durerà veramente veramente poco, che adesso vi dirò esattamente quando è iniziato E' iniziato nella giornata del 20 ottobre, quindi di ieri, l'evento è un boom di adesivi Entrate, dura veramente veramente poco, dura un'oretta all'incirca, è un evento temporaneo Vi consiglio fortemente di andare a partecipare e andare a vederlo, oggi andiamo ad analizzare assieme come funziona E quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate like Qua trovi i video precedenti di Monopoly Go Ita, qua sotto invece trovi il mio canale Twitch dove devi andarmi a seguire Faccio live tutti i giorni, Amazon Prime se ce l'hai puoi fare l'abbonamento gratis, se no perderai i capelli come me Scherzo naturalmente, li ho tagliati ragazzi, so tutto bene Sono soltanto diciamo da accorciare perché i miei capelli ragazzi quando iniziano a districarsi si creano nodi, iniziano ad impazzire Quindi ho detto prima di uscire totalmente di testa blocchiamoli sul nascere E quindi eccoci qua bloccati sul nascere Evento afferra la grana nel mente, vi ricordo che bisogna afferrare più banconote possibili Questo ci permetterà di ottenere una ricchezza tale che attraverso il moltiplicatore ci va a dare il risultato finale Un risultato che deve essere eccellente, in questo caso 8 milioni e mezzo Utilizzando il moltiplicatore del per 50 arriviamo a 425 milioni Molto molto bene perché è un ottimo input, un ottimo start per quello che sarà l'obiettivo di oggi Infatti l'obiettivo di oggi per la prima volta dopo 2-3 video a questa parte dove mi avete visto un po' fermo È provare a completare l'intero, l'intera mappa in questione, quindi quella che mi tocca A proposito di tornei che come vedete sto sbloccando Uscirà un video, tra poco, non lo so, comunque in settimana Deve uscire un video molto molto interessante su come si possono sbloccare i tornei C'è un trucco abbastanza interessante che secondo me vi può piacere Ma prima volevo farvi questo video del boom degli adesivi Perché come vedete nella parte a destra del mio schermo C'è un evento che dura 54 minuti e in questo esatto momento 23 secondi È un evento molto molto particolare che potrete andare a vedere già in azione in questo esatto momento Perché attraverso l'evento Rodeo Drive ho sbloccato un pacchetto di adesivi Che non andrà a darmi il numero classico di adesivi ma mi andrà a dare al posto di 3 adesivi 5 adesivi Molto molto interessante Andiamo a leggerlo nel dettaglio e in maniera accurata 54 minuti, adesso ogni pacchetto che apri contiene un 50% in più di adesivi Naturalmente un 50% in più arrotondato per eccesso Quindi nel mio caso essendo 3, il 50% essendo altri 3 dovrebbe essere 4,5 me ne dà direttamente 5 Basta tirare ed è un evento che si sblocca tranquillamente all'interno del giocare Cioè come gli eventi temporanei come affitta ora o il parchimetro come quello o quell'altro Questo è tutti gli adesivi anche quelli del negozio ragazzi naturalmente Qualsiasi tipo di adesivi che voi andrete ad aprire quest'oggi darà delle carte in più Quindi molto molto interessante soprattutto in vista di fine set come siamo adesso A proposito vi ricordo ragazzi che attualmente devo ancora completare il set di adesivi Quindi se qualcuno di voi dovesse avere degli adesivi appunto da regalarmi Per favore me li mandate, questo qua è il link e lo trovate qua sotto in descrizione Gli adesivi che mi mancano sono numerosi, siamo al numero 32 Quindi 32 adesivi rimanenti sono veramente veramente tanti Questi sono quelli che mi mancano che potete appunto scambiare Abbandonare la nave per tutte le gemme, lancia a ferra, silhouette notturna L'ora dello spettacolo, tocco di mida, bottino dorato, natura selvaggia eccetera 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 Insomma fate stop se effettivamente volete aiutarmi Fate stop all'interno del video e donatemi per favore quelli che mi mancano Detto questo ci catapultiamo all'interno di una distruzione Una distruzione che si rivela essere un buon metodo per ottenere guadagni quasi quasi certi Naturalmente dipende molto dal tipo di villaggio che ti trovi contro In questo caso naturalmente mi sono scontrato contro un ragazzo ben attrezzato Molto difficile da andare a combattere e distruggere E quindi naturalmente ci siamo dovuti accontentare insomma Ma è una cosa che io faccio anche volentieri e mi accontento volentieri non è quello il problema Detto questo facciamo subito un 11 quindi arriviamo molto molto vicino alla prossima stazione Cosa che però non andiamo comunque a sbloccare Sono contento che andiamo dal via facciamo quello quell'altro E l'obiettivo di tutto questo è arrivare a quota 2 miliardi Perché più o meno adesso ragazzi per potenziare un intero villaggio Secondo me siamo addirittura over 2 miliardi Non vorrei esagerare con le mie stime ma potrebbe effettivamente essere Non mi stupirei in caso di questa cosa Rapina? Pensavi in una rapina sicuramente sarebbe stata più interessante Anche perché comunque la rapina è un qualcosa che ti va a dare quella botta in più rispetto alla distruzione Cioè se te fai una rapina fatta per bene ti aumenta esageramente esponenzialmente il saldo totale dei tuoi risparmi In questo momento comunque siamo a 1 miliardo e 6 Quindi per iniziare a sondare il terreno avevamo da potenziare naturalmente l'ultima edificio Che è quello che ci spende veramente e ci spenna un po' di più Vado adesso a potenziare in maniera decrescente in modo tale da potermi accorgere di quanto effettivamente consumino Gli ultimi 3 edifici ragazzi Soltanto gli ultimi 3 edifici 1 miliardo e 3 Quindi purtroppo una cifra decisamente veramente alta Ma con 1 miliardo e 6 non ce la facciamo a far tutto Perché comunque manca il primo edificio Ma ci portiamo decisamente avanti E ragazzi attenzione perché siamo messi decisamente bene adesso Sono contento però di essere entrato in stazione con un'altra distruzione questa volta Meno male che non mi è uscita la rapina adesso Perché se mi dava la botta da 600 milioni li avrei buttati via sicuro 100-100 102 milioni 102 milioni che andiamo subito ad allocare in maniera naturalmente fedele alla nostra crescita Quindi naturalmente vanno allocati sul primo edificio E secondo me non vorrei dire cavolate ma potrebbe essere proprio stata la mossa perfetta Per poter completare Antartide la mappa in questione Passiamo adesso quindi al livello 100 e passa Adesso vi dico esattamente il numero in questione Mi sa che siamo sul 138 Vita notturna Monaco Abbiamo fatto ragazzi dei passi da gigante Ve lo dico quasi 5000 di patrimonio netto L'obiettivo è attraverso un nuovo evento collaborativo Che se vi siete persi potete trovare qua nelle playlist ufficiale Tutto il discorso che ho fatto riguardo al nuovo evento collaborativo Che cosa conterrà Quali saranno le peculiarità di questo nuovo evento E quindi sono molto molto curioso di saperla vostra anche sotto quel video lì Mi raccomando andatelo a recuperare che secondo me merita veramente un sacco Attualmente cosa abbiamo da fare? In realtà niente Abbiamo da aprire eventualmente un forziere della comunità Che sinceramente ora come ora non trovo la necessità Sono full ho appena finito anche un intero livello di mappa Potrebbe essere un qualcosa di utile ma non sento proprio la necessità vivida insomma Molto molto bene però questi 10 dadi che mi vengono accreditati in maniera completamente gratuita E quindi adesso arriviamo alla fine del video Con rodeo selvaggio naturalmente ancora da completare Vi ricordo che sono in live su Twitch tutti i giorni In vapor, trattino basso, link qua sotto per fare l'abbonamento con Amazon Prime Noi ci vediamo invece domani alle ore 14 Su questo canale Non so ancora con cosa Forse oggi pomeriggio sono live alle 5 per reagire al Brawl Talk Ma devo vedere con lo studio se riesco Ragazzi mi raccomando Keep going Ciao belli A domani alle 14 Ciao 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 ciao